L'Aquila ha di nuovo il suo largo d'acquisto. È stata riposizionata infatti la targa intitolata il vicebrigatiere dell'arma dei carabinieri salvo d'acquisto, medaglia d'oro al valor militare, nello spiazzo a pochi passi dalla caserma dei carabinieri, luogo dove il vicebrigatiere fu ucciso dai nazisti salvando un gruppo di civili durante la seconda guerra mondiale da un rastrellamento. Una cerimonia toccante alla quale hanno partecipato anche gli studenti della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri che hanno suonato l'inno di Mameli accompagnati dalla loro dirigente. Cerimonia sotto la pioggia per i tanti presenti, tra i quali la pronipote Valentina d'Acquisto, maggiore dei carabinieri, che presta servizio presso lo Stato Maggiore della Difesa. Importante tramandare e trasmettere questi valori alle nuove generazioni. Mi tocca come ogni volta c'è un'intitolazione o un'inaugurazione a nome di salvo d'acquisto. Mi tocca come familiare ma mi tocca anche come ufficiale donna dei carabinieri. Questo spero sia l'ennesimo tassello che l'arma può mettere a contributo anche di un tramandare di valori a queste nuove generazioni anche qui presenti. Sì, per noi è molto importante soprattutto la presenza dei ragazzi. In fondo tutto quello che facciamo è per un futuro migliore e i ragazzi, soprattutto questi delle scuole, sono il nostro futuro. Quindi per noi ricordare è fondamentale ed è aiutarli a crescere, dandogli un esempio e un modello importante.